Ahalam ha 12 anni, è originaria di Baishi, una città di 200.000 abitanti nel nord dell'Iraq. Oggi sono stata a scuola, sta dicendo. Ho appreso dove vivono gli esseri viventi, come trovano acqua e cibo. Mi piace andare a scuola, mi piace l'inglese e la matematica. Oggi Ahalam è felice nella scuola di Save the Children, ma sogna di tornare a casa, da dove è dovuta scappare con la sua famiglia per colpa dell'ISIS. Voglio diventare un ingegnere o un medico, racconta Ahalam, vorrei tornare a casa. Gli ho lasciato i miei giocattoli, la mia altalena, la tv con la quale guardavo i cartoni, tutto quello che avevo. Qui non ho i giocattoli. Ahalam racconta ancora che ha camminato sette ore tra le montagne, mentre attorno a lei esplodevano le bombe. Il paese nel mondo dove i bambini vivono meglio è la Norvegia, quello dove vivono peggio è il Niger. Secondo il primo indice globale realizzato in 172 paesi da Save the Children, nel mondo l'infanzia viene negata a un bambino su quattro, circa 700 milioni in totale. 263 milioni non vanno a scuola, mentre 168 milioni sono coinvolti nel lavoro minorile, compreso quello pericoloso. 6 milioni di bambini muoiono ogni anno per cause facilmente prevenibili, come polmonite, diarrea e malaria, prima di aver compiuto i 5 anni, mentre sono 156 milioni i piccoli con meno di 5 anni colpiti da forme di malnutrizione acuta. Inoltre circa 28 milioni di bambini sono stati costretti, come Ahalam, ad abbandonare le proprie abitazioni per fuggire da guerre e persecuzioni. Ancora, nel solo 2015 sono stati assassinati nel mondo più di 75 mila bambini e ragazzi di meno di 20 anni di età. Infine, ogni 7 secondi una bambina viene data in sposa. Cifre vergognose che raccontano come il mondo degli adulti abbia dimenticato l'età dell'innocenza. Grazie.